Questo programma è offerto da Sparco Motorsport dal 1977, GL Idraulic, componenti oliodinamici. Sale la voglia, sale l'appetito, sale la golosità, con le nuove fresche biscottate salate, sale la voglia di una nuova colazione. Provale anche al posto del pane. Amici di Rally Dreamer, amici di Sport Italia, di nuovo ben ritrovati dagli studi di Milano. Dopo una breve pausa estiva, torniamo per continuare a parlare insieme di campionato italiano Rally Terra e di Coppa Rally di Zona. In particolare, sotto i riflettori questa sera, la Coppa Rally di Settima Zona, supportati naturalmente dalle testimonianze dei due protagonisti di questi campionati. Uno lo vedo già pronto in collegamento dagli studi di Bologna, accanto a Mirko. Ciao Tommaso, Tommaso Ciuffi. Ciao, buonasera a tutti. Come sempre un piacere essere qua con voi. Naturalmente Mirko, ben ritrovato anche a te. Spero che tu abbia approfittato di questa settimana di vacanza per rilassarti, perché tra poche ore si riparte con il Rally Piancavallo. Indubbiamente sì, io ho cercato di riposarmi il più possibile. Adesso dobbiamo levarci un po' di ruggine d'addosso, Alice, perché sono 15 giorni che non facciamo nulla, stiamo lì solo a prendere il sole e vedo che ne hai preso tanto anche te. Questo mi fa piacere. Forse non abbastanza. Qui alla mia destra invece, nello studio di Milano, ritrovo anche Niccolò Ardizzone. Ciao Niccolò. Ciao a tutti, è un piacere essere di nuovo qua. Mirko, cominciamo a parlare di campionato italiano Rally Terra che mai, come in questa stagione, si sta rivelando avvincente con ben tre vincitori differenti in quattro round. Sì, è stato sicuramente un campionato un po' particolare, perché tutti si aspettavano ancora una volta un Paolo Andreucci velocissimo, un Paolo Andreucci che poteva in qualche modo ripetersi in quelle che sono state le sue imprese da sempre, soprattutto sulla terra, e invece no, è cambiato tutto. Lui ha avuto la chance di andare a fare l'asfalto, ci è andato subito, ma ha lasciato a combattere un manciato di piloti che se ne stanno veramente dando di santa ragione. Tra questi sicuramente il nostro Tommaso è uno di quelli che ha dimostrato che su terra quest'anno sembra quasi imbattibile. Infatti Mirko, come hai detto tu, Tommaso davanti a tutti, tra poco avremo anche occasione di interrogarlo, di ascoltare direttamente le sue parole e le sue testimonianze, ma prima la nostra redazione ha voluto preparare un breve servizio che ci riassume questi primi quattro round del campionato terra. Vediamoli insieme e poi torniamo in studio a commentarlo. Il campionato italiano Rally Terra è alle battute finali. Con quattro gare su sei completate, mancano solo gli ultimi due appuntamenti per decretare il campione 2024 della massima serie sterrata italiana. È arrivato quindi il tempo di tirare le somme e raccontarvi gara per gara questo bellissimo inizio di stagione, in attesa di un finale è ancora tutto da scrivere. Riavvolgiamo il nastro alla prima gara di questo 2024, che al terzo rally Città di Foligno ha visto debuttare la Toyota Yaris GR Rally 2 su fondo sterrato. Un debutto fortunato, dato che Mirko Eichila e Christian Temonen si sono aggiudicati la gara Umbra portando la nuova vettura della casa niponica alla prima vittoria internazionale. Partito quasi subito all'attacco, il finlandese ha continuato conquistando alla fine ben otto scratch nei nove tratti cronometrati in programma. Ottima la prova di Alberto Battistogli, in coppia con Simone Scatolin, su Skoda Fabia RS, l'unico dimostratosi in grado di reggere a lungo il passo del vincitore. A chiudere il podio, un grande Umberto Scandola, in coppia con Paolo Carniellutti, su un'altra Skoda. Tommaso Ciuffi, altro grande atteso in questa prima tappa, è uscito di strada nella seconda prova, dopo aver fatto registrare il terzo miglior tempo nella prima. Archiviata la prima gara, le attenzioni si spostano in Toscana, dove ad attenderci è stato il quindicesimo rally della Val d'Orcia. Una gara straordinaria che ha visto cinque equipaggi in lotta sul filo dei secondi, terminata solamente in vista del traguardo, e che ha visto impegnati per tutta la gara dall'inizio alla fine Tommaso Ciuffi, Fabrizio Zaldivar, Simone Tempestini, Mikko Eichila e Alberto Battistogli. Questi, al via dell'ultima prova speciale, si sono presentati racchiusi in cinque secondi, dopo due giornate di gara, nove prove speciali e 75 chilometri cronometrati. Nell'ultima pièce sono andati tutti al massimo e le sorprese non sono mancate. La più clamorosa è stata quella del cabottamento del finlandese Mikko Eichila, in coppia con Francesco Pezzoli, che ha definitivamente lasciato via libera verso il primo posto nell'assoluta al paraguaiano Fabrizio Zaldivar, navigato dall'argentino Der Oannisen, su Skoda Fabia RS. Alle sue spalle ha chiuso con solo un secondo e sei di distacco il bravo pilota rumeno Simone Tempestini, in coppia con il connazionale Sergio Ito, su Skoda Fabia RS, dopo una gara passata quasi tutta con il ruolo da leader. A due secondi e quattro dalla vetta ha quindi concluso, dopo l'inaspettato forfè di Eichila, Tommaso Ciuffi con Pietro Cigni, su altra Skoda Fabia. Il fiorentino, al termine di una gara perfetta, condita anche da due scratch, ha conquistato la sua prima vittoria nel campionato italiano Rally Terra, portandosi anche a casa il bottino pieno, dopo che dal rally di Foligno era tornato a mani vuote. A completare il podio per il tricolore sono stati Alberto Battistogli e Umberto Scandola, sempre competitivi a bordo delle loro Skoda Fabia. Nella terza tappa non sono mancate le sorprese, grazie alla vittoria di Umberto Scandola del 31esimo rally adriatico. Tre vincitori diversi nelle prime tre gare, un risultato mai visto, che certifica la bontà di questo 2024 targato Rally Terra. Il re dell'Adriatico, sulle strade bianche marchigiani, è riuscito ad imprimere un ritmo fenomenale, staccando Tommaso Ciuffi e Alberto Battistogli. La sfida tra le teste di serie del campionato si era accesa fin dalle prime battute, con due scratch del vincitore e uno di Battistogli. Nel secondo giro, poi, era stato Ciuffi a prendere la leadership con decisione, prima che Scandola, grazie ad un loop finale perfetto, rifilasse secondi ai suoi inseguitori. Solo quinto posto per il finlandese Mikko Ekila, già vincitore del rally di Foligno, che non ha mai trovato il ritmo per stare al passo con i primi, salvo illuminarsi solo nella PS4, con un super scratch. Siamo quindi giunti all'ultima tappa fin qui disputata, il 52esimo San Marino Rally. Ad aggiudicarsi la gara alle pendici del Monte Titano, è stato Mikko Ekila, impeccabile, sugli sterrati biancazzurri, centrando così la seconda vittoria stagionale e riaprendo la sfida alla leadership del tricolore. Il campione finnico è partito facendo dall'Epre sin dalla prima prova speciale delle nove in programma, siglando quattro scratch e rilanciandosi in classifica. Con questo bottino, Ekila è infatti salito al secondo posto della classifica del CRT. Sorrideva soddisfatto, nonostante non sia arrivata alla corona dall'oro, Tommaso Ciuffi, che ha il debutto sulla Skoda Fabia RS e con le note del solito Pietro Cigni ha centrato un altro secondo posto. I piloti partono sempre per vincere, ma questa volta Ciuffi, che al Val d'Orcia aveva conquistato la sua prima affermazione in carriera, si è potuto accontentare. Con questo secondo posto, il fiorentino è infatti il nuovo leader in solitaria del campionato italiano Rally Terra, grazie alla costanza di ottenere risultati a podio e non avendo fatto segnare altri zero dopo il primo di Foligno. Questo nuovo ribaltamento della classifica, il quarto in quattro gare per il tricolore che corre solo su sterrato, è stato possibile grazie al ritiro anzitempo di due dei quattro protagonisti. Prima è arrivato il forfè di Umberto Scandola, uscito di scena nella PS3 dopo aver toccato la vettura di Tali Capolongo, anch'essi fermi in prova. E poi si è ritirato Alberto Battistogli che ha cappottato nella PS5. Tutte e quattro le teste di serie del Terra ora si sono così giocate lo scarto possibile e con Battistogli e Scandola che scivolano dietro a Ciuffi e Deichila, per il finale di stagione si prospettano i fuochi d'artificio ad ogni prova. Con solo due gare al termine, la situazione in classifica è apertissima, con Tommaso Ciuffi, leader, a 39 punti, seguito da Mikko Eichila a 36, Umberto Scandola a 35 e Alberto Battistogli a 34. Quattro piloti in cinque punti saranno pronti a giocarsi il tutto per tutto nelle prossime due gare. Il ventunesimo Rally dei Nuraghi e del Vermentino e infine l'appuntamento finale del diciassettesimo Rally delle Marche. Non vediamo l'ora di raccontarvi come andrà. E sempre... tanta roba! Di nuovo in studio, Tommaso, dall'esterno, guardando le immagini del servizio sembra sempre tutto molto semplice, in realtà dentro l'abitacolo poi lo sappiamo, le sensazioni sono notevolmente amplificate. Ripercorriamo insieme quella che è stata la tua stagione fino a questo punto, a cominciare dalla sfortunata gara di Foligno. Ma intanto ringrazio Rally Dreamer per il servizio, bellissimo, come sempre è un'emozione vedere queste immagini. Che dire, siamo partiti con la prima gara di campionato, se ripercorriamo un po' tutto il nostro percorso fino a qua, con un bel passo falso, subito pronti via, Rally del Foligno, abbiamo fatto un errore stupido, un errore mio di nota, ho sbagliato una curva e siamo usciti fuori strada, però ci siamo rialzati direi molto bene subito al Rally del Val d'Orcia. Aspetta, aspetta, vai troppo veloce Tommaso, ralentiamo, torniamo un attimino indietro. Intanto la novità per te di quest'anno, la prima novità, è che hai dapprima, la prima cosa che hai fatto, hai cambiato le scarpe alla tua Skoda, oltre ad aver continuato a correre con RF che avevi appena assaggiato in una gara, no o sbaglio? Come sempre a me piace andare veloce, quindi a parte le battute, abbiamo cambiato scarpe, adesso quest'anno siamo con Pirelli, ma ci arrivavo anch'io piano piano, ci troviamo molto bene, stavano facendo un ottimo lavoro insieme a loro, un bel gioco di squadra e sicuramente il risultato fino ad oggi è grazie a tutti, grazie sicuramente al team RF che sta facendo un ottimo lavoro, grazie alle gomme Pirelli, ma anche grazie a tutti i miei partner e a tutte le persone che mi seguono. Comunque, ti chiedo su e ti interrompo, andiamo un attimo su quello che è stata la gara vera e propria, cioè quello che è successo, poi alla fine io ho guardato tante volte insieme a te, ma anche da solo il camera car che noi abbiamo la possibilità di vederci e di controllare tutti gli errori che fai, prima della curva, quei 20 metri prima della curva, forse anche diciamo 15, hai detto no, non ce l'ho più, cioè tenere accorto che stavi sbagliando. Eh sì, purtroppo mi ero già accorto, ma ho fatto un no anche per avvertire il mio amico, compagno Pietro, che sta a fianco a me, perché lui era a testa bassa e stava già leggendo la curva successiva, io ho fatto, diciamo che è il mio classico avvertimento è no, poi ho cercato di fare di tutto, ho provato a fare del mio meglio per non fare il patatracchio, ma non ci sono riuscito, diciamo ho scalato due marce, ho buttato giù tutto gas, però siamo andati sotto strada, obiettivamente per la velocità di uscita abbiamo anche fatto veramente pochi danni, ma sono cose che succedono, un peccato farlo subito alla prima gara, però poi ci siamo rialzati, come stavo dicendo prima, ci siamo rialzati veramente subito bene, perché al rally del Val d'Orcia, nonostante un parco partente importante, perché c'era anche due ragazzi poi che corrono uno nel mondiale, uno dell'europeo, fuori dalle classifiche del nostro campionato, però comunque ci spronavano sicuramente andare ancora più forte, e abbiamo fatto comunque un terzo posto alla gara, ma un primo del campionato italiano terra, quindi abbiamo subito rialzato, ci siamo subito rialzati facendo bottino pieno. E diciamo che a differenza tua, il primo, cioè chi aveva vinto prima, ha fatto l'errore lui, se l'è messa in testa lui, e quindi uno pari anche sugli errori. Poi però arriva l'Adriatico, e all'Adriatico torna fuori un nome, si dice scandola, va fortissimo, imprendibile, mentre te sei subito lì, molto vicino però, quindi lo vedevi, vedevi la sua polvere, ma non sei stato in grado di passarlo. Sì, purtroppo lì abbiamo fatto un errore, diciamo mio, sempre, perché comunque il volante ce l'ho in mano io. Come dite, è normale, diciamo ho fatto un piccolo errore, un allungo, su un allungo ho fatto un diritto, che ci ha fatto perdere quei 4-5 secondi, e poi sappiamo che le gare, nonostante sono così corte, appunto ci giochiamo, è il filo dei decimi, anche a volte dei millesimi, quindi quel piccolo errore ci ha fatto perdere poi quei 2-3 secondi, non mi ricordo, a fine gara, che sono poi risultati vincenti per Umberto, e io sono arrivato secondo. Comunque, diciamo che era per lui una gara che conosceva molto bene, noi veniamo comunque dal 2023, che siamo ritornati su terra, per noi diciamo che è il secondo anno nel terra con un R5, non pensavamo di essere comunque vicini e attaccati a dei professionisti, come appunto della terra, in questo caso come Umberto, e tutti gli altri, diciamo che fra tutta la carovana siamo quelli che abbiamo meno esperienza, però diciamo che adesso ci ritroviamo davanti, e prima di arrivare a San Marino adesso, visto che stiamo correndo forse tutti troppo, meritava un commento anche il Val d'Orcia, probabilmente con il terzo gradino del podio, e il primo di campionato a punteggio pieno soprattutto. Sì, 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 l'abbiamo detto prima, è stata una gara, direi, bellissima, il Val d'Orcia è una gara che conosco bene, che l'ho fatta anche nel passato, sia con l'R2 che una volta con la Super 2000, è una gara per me, diciamo quasi di casa, che mi piace molto. Diciamo il primo giorno, perché era spezzato in due giorni, il primo giorno abbiamo un po' sofferto per riprendere il feeling e comunque la fiducia, perché comunque dopo un'uscita di strada devi sempre riprendere un po' la tranquillità. Abbiamo chiuso il primo giorno, mi sembra, al quarto o al quinto posto, e poi siamo partiti subito il secondo giorno per andare a recuperare sempre quei secondi. Una volta ritrovata la fiducia, giustamente il passo giusto, avete cominciato a spingere nuovamente. Sì, sì, bravo, bravo. L'importante era proprio quello, riprendere la fiducia. Riprendere la fiducia, giustamente, ritrovare la serenità. Così arriviamo a San Marino, dove arriva un secondo posto dietro al finlandese Miko Eichila, ma con un distacco veramente davvero contenuto. Sì, San Marino è stata, diciamo, una gara abbastanza complicata, perché a parte che colgo l'occasione per ringraziare il team RF, che ha fatto di tutto per farci arrivare la nuova RS, che è veramente bella. Per i pochissimi chilometri che abbiamo fatto, diciamo che abbiamo fatto un bel risultato, perché cambiare auto, diciamo, durante un percorso non è mai semplice. Quindi abbiamo fatto pochissimi chilometri di test per provare questa nuova RS e poi ci siamo subito buttati in gara. Siamo rimasti comunque contenti del secondo posto. Gli altri, appunto, hanno sbagliato, hanno fatto errori, quindi diciamo che adesso i quattro che ci giochiamo nel campionato siamo tutti alla pari, perché abbiamo sbagliato tutti. Quindi abbiamo portato a casa un secondo posto che adesso ci fa ritrovare primi nel campionato italiano-terra che per me è, diciamo, una soddisfazione, perché appunto essere partiti con un errore e poi, diciamo, al giro di Boa è importante, mancano due gare, ritrovarsi davanti è comunque un motivo di orgoglio, un motivo di crescita anche mia personale, mentale. Comunque anche come gestire le gare è sempre importante, perché poi non importa sempre vincere. un campionato è lungo e quindi anche se stai sempre lì fai i secondi posti e a volte si può anche vincere così. Naturalmente ci sarà tutto da giocarsi e soprattutto in Sardegna, in terra sarda sarà importantissimo il risultato perché poi mancherà solo una gara e ci sarà solo il gioco degli scarti a dover fare quello che è poi il conto finale per chi vincerà il campionato italiano-rally-terra. Alice, io direi che ne abbiamo parlato abbastanza e forse possiamo cambiare argomento. Assolutamente, chiudiamo la parentesi dopo aver ringraziato naturalmente Tommaso per l'approfondimento legata al campionato italiano-rally-terra per spostarci invece al nazionale di zona e nello specifico in Coppa Rally di settima zona. Nicolò, cominciamo insomma a riassumere quella che è stata fino a qui la vostra stagione. Di cinque gare tu e da lista ne avete disputate quattro e tirando le somme possiamo dire che fino a questo punto con la dovuta scaramanzia della considerazione avete disputato un'ottima stagione. Due primi posti di classe Rally 5 Under 25 un secondo posto un terzo posto insomma tutto questo tutti questi risultati sommati vi hanno permesso naturalmente di primeggiare tra gli Under 25 di dominare la classe Rally 5 di essere primi nel trofeo Pirelli e anche primi di raggruppamento nella R Italian Trophy. Qual è l'ingrediente segreto? Insomma vi aspettavate considerata anche la difficoltà di affrontare delle prove speciali che non avevate mai visto prima? Allora credo che l'ingrediente segreto principale sia quello di ascoltare Mirko perché credo che la vittoria di Luca al 70% è proprio grazie a lui a tutta la preparazione che mi ha fatto fare prima della gara che è molto sottovalutata la preparazione fisica almeno forse io prima anche un po' la sottovalutavo e ho capito che è fondamentale e sì siamo partiti dal Maremma diciamo un po' col dubbio perché andare a correre lontano da casa ti mette un po' quel dubbio che magari non sei veloce vabbè io ho tutto da imparare quindi per forza c'è il dubbio però subito mi sono trovato molto bene e ringrazio Alissa perché ti hai creato anche una bella sinergia tra voi sicuramente esattamente infatti sono molto contento di questa cosa perché andare a correre lontano da casa con un nuovo navigatore non è semplice e poi il team Lion che veramente qualsiasi problema c'è mi hanno sempre supportato è tutto perfetto la macchina funziona sempre bene infatti in quattro gare non c'è mai stato un intoppo questo la dice lunga forse il primo intoppo è stato causato proprio da me a Lucca visto che è l'unica gara dove ho fatto una sbavatura che ho toccato ho strisciato contro un rail però poi alla fine solo danno di carrozzeria e siamo arrivati alla fine ottenendo un risultato che era fondamentale ma che non mi aspettavo un risultato del genere subito vincere così a Lucca comunque quelli di casa erano molto veloci agguerriti e conoscono molto bene le prove esattamente anche perché con solo tre giri di ricognizione soprattutto in quella di notte un po' ho fatto fatica però devo lavorare molto bene sulle prove di notte devo ancora migliorare tanto perché Nicolò ma per riassumere a fronte di tutte le gare che avete disputato qual è stata quella che avete preferito e quella all'interno della quale avete faticato un pochino di più o avete riscontrato qualche difficoltà allora forse gli abeti è stata un po' tosta perché erano prove molto difficili e anche a livello di note con poca esperienza ho fatto un po' di difficoltà però la cosa di cui sono contento è che dal Maremma in poi c'è stato sempre solo una cosa crescere una crescita che fino a Lucca si è dimostrata spero di continuare così sono felicissimo di quello che stiamo ottenendo io a Lissa al Team Lion e ringrazio inoltre anche tutti gli sponsor che mi stanno aiutando che sono fondamentali Mirko tu ti puoi reputare contento e soddisfatto nel momento in cui hai deciso di investire su questi ragazzi ti saresti aspettato dei risultati simili sì è troppo facile adesso dirlo naturalmente perché va tutto bene quando va bene uno monta sempre sopra e dice ah sì io l'avevo detto no io ero convinto che avremmo fatto una stagione così stiamo seguendo un programma un programma che anche al Casciana le metterà in difficoltà perché c'è una sorpresa per loro non saranno molto contenti di questa sorpresa non la svelo adesso la svederò più avanti sui social quando sarà il momento e soprattutto le dirò a loro all'ultimo momento di modo che non abbiano la possibilità di essere preparati a quello che li sto preparando una sorpresa è che anche questa le aiuterà a crescere e che sicuramente porterà avanti il nostro programma fino alla fine che è quello di arrivare a fare la finale del CRZ in Terra Ligure naturalmente questo fino adesso è tutto secondo programma e soprattutto va anche a dover ringraziare oltre all'Aiono anche Sparco e anche Pirelli che ci stanno sostenendo in questa cosa mancano davvero pochi secondi alla chiusura un'ultima domanda velocissima per Nicolò Nicolò prossima sfida giustamente al Casciana pensi che il vostro nome all'interno dell'elenco iscritti inizia a preoccupare un pochino gli avversari? Credo di sì spero di sì quindi questo vuol dire che stiamo lavorando bene vedremo anche lì sarà una gara molto bella e non vedo l'ora grazie mille allora Nicolò Ardizione ci ritroviamo presto nei nostri studio ormai sei di casa ciao a tutti e grazie mille ancora grazie mille anche a Tommaso Ciuffi in collegamento da Bologna ciao grazie mille ciao a tutti e grazie soprattutto a te Mirko ci rivediamo prestissimo sulle prove speciali di Piancavallo sì indubbiamente perché ci abbiamo da fare un sacco di dirette si partirà con Rally Chef giovedì sera mi raccomando in diretta e poi venerdì e sabato dirette di continuo noi saremo presenti sui social e vi diremo gli orari vi diremo tutto questa settimana due puntate di Rally Dreamer non resta altro che salutarvi come ormai ve lo faccio da 15 giorni e non vedo l'ora di farlo Rally Dreamer tanta roba e da parte mia come sempre un buon proseguimento di serata ma sempre qui sul canale 60 sale la voglia sale l'appetito sale la golosità con le nuove fresche biscottate salate sale la voglia di una nuova colazione provale anche al posto del pane questo programma è stato offerto da è stato offerto da